Ti devo tenere Kira? No. Ci legge? Allora, con storico presente e futuro affetto per tutti i tifosi, così, suppongo, per tutti i tifosi, un abbraccio. E ho finito il pannello? Vai. Molto, molto, molto bene. Senti, a me piacerebbe anche che tu scrivessi sul retro una cosina, l'ho fatto fare anche all'altro capitano, è un pronostico sulla stagione. Chiaramente noi non sveleremo fino alla fine della stagione, però aspetta il capitano prendersi la responsabilità o no, insomma, di dichiarare quello che a questo punto della stagione potrebbe essere veramente l'obiettivo da raggiungere, o gli obiettivi da raggiungere. Perché non è... Perché non è...